benvenuti e buona domenica a tutti ma soprattutto grazie per essere qui ancora anche oggi all'ultimo nostro incontro lo dico con un po di vedere insomma non dico tristezza ma sicuramente è stato un bellissimo appuntamento per noi un appuntamento della domenica cinque incontri cui la città ha risposto con con interesse e quando devo dire siamo partiti organizzando e pensando ad un progetto di questo tipo qualche dubbio lo abbiamo avuto lo abbiamo avuto pensando che i dialoghi con la scienza oggi pur essendo di primaria importanza e pur essendo un tema che comunque ci coinvolge a maggior ragione in questo momento tutti indistintamente forse era un po' una scommessa posso dire questo penso ma è la scommessa credo che possiamo dire che sia stata vinta perché abbiamo suscitato interesse perché siete un pubblico attento perché l'abbiamo visto anche proprio nel corso delle domeniche nel corso di questo mese in cui c'è stata molta attenzione nei confronti di questi eventi molta attenzione anche perché c'è stato l'interesse crescente ecco posso dire questo è stato un interesse crescente ed è stato un coinvolgimento importante questa mattina so che sono presenti oltre ai ragazzi delle scuole superiori anche ad alcuni ragazzi dell'università e questo non può che farci pensare che non sia l'ultimo dialogo ma che ci sia una prosecuzione io questo me lo voglio veramente augurare prosecuzione significa un maggiore coinvolgimento naturalmente di tutte le realtà della città ma mi corre l'obbligo naturalmente in questo momento io confesso che non volevo parlare questa mattina perché con katia bastioli presente mi sembrava proprio che fosse suo il momento del della parola il momento del dialogo insomma anche perché katia bastioli questo progetto l'ha voluto e quindi io sono qui soprattutto a ringraziarla e credo che le vada un applauso proprio per questo perché non è facile non è facile pensare che un'azienda come la vostra un'azienda così importante pensi davvero di investire anche in quello che è un progetto culturale importante un progetto a più a più livelli un progetto che coinvolga tutti come vi dicevo quindi va in nostro grazie come fondazione di circolo dei lettori a novamont e mi auguro davvero che questo come vi dicevo che questo non sia l'ultimo dialogo ma che sia l'ultimo dialogo di una prima parte e che il progetto possa proseguire nei modi nei tempi e con la partecipazione che studieremo poi insieme ancora a novamont il mio grazie naturalmente va ad altri va al comune di novara va al nuovo teatro faraggiana va all'università del piemonte orientale alla stampa che è nostro partner e che ci ha seguiti in tutto questo mese portando l'attenzione proprio anche di un'informazione corretta precise puntuale quindi sono tanti grazie che vanno detti ma soprattutto ripeto un grazie a chi l'ha voluto perché è un progetto lo dico anche come responsabile della fondazione del circolo dei lettori di novara è un progetto proprio novarese e ci tengo a sottolinearlo è un progetto che nasce dalle realtà del territorio quindi penso che anche questo sia importante pensare che è un progetto che abbiamo studiato insieme a tante realtà grazie davvero e a tutti naturalmente buona buon dialogo buon ultimo dialogo con la scienza e alla prossima grazie 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 davvero e anche per questo appassionato saluto iniziale grazie a tutti voi bellissimo rivedere ancora una volta il teatro tutto tutto pieno e ne varrà la pena sicuramente chiudiamo con un dialogo abbiamo pensato fin dall'inizio per tirare le somme ma in realtà anche per rilanciare su molti dei temi che abbiamo già incontrato durante queste le precedenti quattro domeniche credo davvero che qui a Novara non ci sia bisogno che io vi presenti Katia Bastioli che ha una formazione come chimica e quindi una nostra collega scienziata innanzitutto ma poi una grande straordinaria carriera nel mondo aziendale come dirigente ma come grande esperta di innovazione e anche di ricerca fondamentale fatta sulle materie prime rinnovabili e su tanti altri aspetti che in qualche modo sfioreremo durante questo dialogo. Il mio compito è un po' quello di tirare le fila anche rispetto a quello che ci siamo detti negli incontri precedenti quindi Katia innanzitutto ringraziandoti per questa occasione io comincerei proprio da questo in diversi già ho cominciato io il primo incontro parlando di antropocene abbiamo raccontato una storia che ci ha portato fino qui una storia di problemi di contraddizioni e di opportunità quindi la prima domanda che ti faccio è come tu vedi questo cioè come siamo arrivati a questa situazione anche di crisi ambientale e perché tu dici aggiungo anche un aspetto più preciso perché tu scrivi spesso che le tecnologie da sole non bastano e che non devono diventare un alibi per non fare anche molto altro è un tema che è venuto fuori anche nel dialogo con Marco Aldi con altri in altri incontri qual è quell'altro che c'è da fare tu parli spesso di modelli di sviluppo di impegno etico e di rapporto con il territorio quindi partiamo da qui come siamo arrivati fin qui e poi parleremo molto anche delle soluzioni di cui tu sei grande esperto. Grazie innanzitutto grazie per l'introduzione grazie a Telmo Pievani per essere stato con noi in questo percorso ma avremo tempo poi alla fine magari di parlare più del progetto invece rispondendo alla domanda di Telmo credo che sia estremamente rilevante capire fino in fondo perché siamo arrivati a questo punto molto critico per l'umanità partendo dal concetto di rapporto tra scienza e società. Io credo che il modello dissipativo che abbiamo imbracciato da ormai molti decenni che ha portato a bruciare risorse sempre più velocemente e a creare problemi di natura diversa economici, ambientali, sociali, pandemici hanno la stessa matrice e dal mio punto di vista nascono proprio da questa evoluzione del rapporto tra scienza e società che trae origine durante la guerra. La scienza in quel momento viene supportata e finanziata dai governi per creare dei grandi progetti di difesa e da lì nascono una serie di accelerazioni dell'innovazione e della ricerca che porta a degli sviluppi molto importanti. Dopo la guerra c'è la guerra fredda e quindi ancora i governi investono moltissimo nella ricerca di protezione e non solo ma incomincia una ricerca che invece viene anche sponsorizzata e pagata dall'industria, cioè prima non succedeva questo e in pratica nasce la competitività basata sull'innovazione. In questa evoluzione nasce quel modello in cui le tecnologie incominciano a produrre prodotti di ogni natura e grado, le imprese incominciano a... Ci sono quattro fattori fondamentali che praticamente hanno influenzato e stanno influenzando continuamente questo rapporto tra scienza e società. È sicuramente il fatto appunto che le imprese hanno incominciato a finanziare pesantemente la ricerca molto più del settore pubblico, dando una grande spinta alle tecnologie e in una visione del breve, del profitto a breve, senza visione del futuro e questo è un tema sicuramente molto rilevante. Il secondo tema è l'evoluzione, l'accelerazione che poi in tanti settori diversi delle tecnologie hanno avuto e che riguardano da un lato tutto lo sviluppo dell'informatica, la comunicazione che poi appunto è andata sul digitale, sull'intelligenza artificiale adesso, ma anche le biotecnologie, ma anche tutto lo sviluppo dei nuovi materiali che hanno cambiato profondamente anche la società stessa, il modo di consumare, anche proprio la parte, lo sviluppo intellettuale, economico e sociale attraverso le tecnologie e poi la globalizzazione che è un tema pesantissimo perché è una globalizzazione economica che non è stata una globalizzazione sociale e che ha visto praticamente crollare gli argini dei paesi e quindi c'è stata la crescita enorme delle multinazionali che oggi hanno dei poteri incredibili che sono enormemente più grandi degli stati e quindi questo è un tema di gigantesca importanza a cui in qualche modo si dovrebbe mettere un minimo di limite e chiaramente ha svuotato molto pesantemente gli stati della capacità di guardare, di mettere delle regole e degli argini e questo ha creato anche dei problemi sociali enormi. Quindi questi sono punti assolutamente rilevanti della questione e poi abbiamo il tema della moltiplicazione dei problemi ambientali che sono nati da un uso di tecnologie che crescevano rapidamente senza sapere l'effetto sui territori ma in questo processo l'uomo è riuscito a alterare attraverso processi industriali e agricoli i cicli naturali e quindi andando a interferire con i cicli biologici, i cicli climatici eccetera, quindi creando un impatto fortissimo sull'ambiente. E quindi, come diceva Telmo nel suo primo intervento, l'olocene diventa antropocene, cioè la capacità dell'uomo di creare, di interferire con i sistemi naturali. E devo dire che dalla sua presentazione sono rimasta molto impressionata da quella slide che lui ha presentato, un articolo di natura, di nature penso, dove si faceva vedere come l'uomo è riuscito negli ultimi cento anni praticamente a far sì che in 2020 la massa costruita dall'uomo è equivalente alla biomassa costruita dalla natura. E questa è una cosa mostruosa. Se pensiamo che nel 1900 era solo il 3% questa massa costruita dall'uomo è che nel 1960 era solo il 10%. Quindi cosa stiamo facendo? Abbiamo una capacità di accelerazione mostruosa e chiaramente se immaginate, quindi se anche avessimo prodotti per esempio inquinanti ma in piccola quantità, con una densità molto minore, sarebbe un problema ma non così pesante. Ecco, invece in questa accelerazione immaginate che cosa significa prodotti inquinanti e non solo ma in questa densità enorme di crescita di volume dei prodotti dell'uomo. Prodotti dell'uomo che rappresenta lo 0,01% della biomassa creata dalla natura. Quindi lo 0,01% ha prodotto una mostruosità in pochissimi anni, in 50-60 anni. Quindi in questa situazione è evidente che la scienza non è positiva o negativa, la scienza è conoscenza, quindi è sicuramente positiva perché è l'uomo che avanza, quindi con le sue regole molto rigorose per riuscire ad evolvere nella conoscenza. Tuttavia la velocità di creazione, l'uso della scienza e l'uso delle tecnologie è il vero problema che noi abbiamo di fronte e l'uso nel momento in cui gli stati e quindi noi cittadini diciamo lasciamo spazio alla grandi multinazionali e quindi anche quando si parla di mercato, di mercato libero, benissimo, importante, ma attenzione perché se questo è abdicare come territori, come specificità, come qualità dei territori, come capacità di innovazione dei territori, allora lì il problema diventa grande. Quindi il concetto è che noi dobbiamo avere un modello in questo momento che sia alternativo a quello dello sviluppo lineare, a quello dello sviluppo appunto che ha portato fin qua e quindi la vera sfida dell'innovazione oggi, che non è soltanto innovazione scientifica, è innovazione sociale, è etica anche, è responsabilità individuale e collettiva, è quella di pensare dei modelli che siano capaci di rigenerare, che siano capaci di trasformare e siano anche contributivi, superando un concetto egoistico che ha portato ognuno di noi ad avere la visione sempre più corta, ad essere degli utilizzatori, perché poi l'altro tema enorme è che la multinazionale si è sostituita a noi in tutto, noi siamo diventati semplicemente degli utenti di qualcosa, quindi diciamo brutto, cattivo, siamo sul web, eccetera, ma ci hanno tolto la capacità di costruire i nostri prodotti, le nostre cose e quindi questo tema è fondamentale, cioè i cittadini devono riappropriarsi di questo tipo di sviluppo e quindi le radici nel territorio, quello che chiamo radici nel territorio e testa nel mondo è fondamentale, perché noi dobbiamo appunto, la crescita senza radici, l'economia senza radici è stata massacrante, cioè la promessa del villaggio globale si è trasformata invece in tirannia dell'economia senza umanità e quindi con diminuzione dei diritti, eccetera, cioè non si può avere uno sviluppo a questa velocità industriale, tecnologico, senza avere un uguale sviluppo etico e di modello sistemico per poter riappropriarci di questi sviluppi, se non facciamo questo evidentemente non ce la faremo, quindi per questo dal mio punto di vista è così importante il territorio, è così importante anche però la cultura delle persone e anche la capacità critica delle persone perché tutti i messaggi che ci bombardano vengono sempre da qualcuno per qualche obiettivo, quindi per questo è così importante ripensare alla scuola, alla scuola diciamo formativa, una scuola che ha abdicato al suo ruolo per tanti anni e che invece deve ritornare ad essere un punto centrale dello sviluppo delle società e quindi, e non solo ma una scuola che sia partecipativa, che faccia innovazione con il mondo dell'innovazione stesso, iniziando a pensare anche al concetto di innovazione partecipata, non la ricerca nelle mani di pochissimi che controllano tutto e noi non sappiamo niente e stiamo lì a preoccuparci, avere paura, sì, no, bianco, nero, noi dobbiamo essere partecipare all'innovazione perché dobbiamo far crescere i nostri territori con le nostre, opponendoci a chi viene dall'alto e dice c'è una tecnologia che risolve tutto, le tecnologie non risolvono mai tutto, è i nostri modelli, la nostra capacità di resilienza nei territori che ci permette di cambiare le cose. Ecco, questa è la visione che tu ci racconti appassionata e prendendo spunto da una cosa che hai detto che mi ha colpito molto, le multinazionali stanno diventando più importanti degli stati, lo abbiamo visto ai noi anche per esempio nella gestione dei vaccini, adesso siamo qua tutti ad affrontare con grande paura varianti provenienti dal Sudafrica, noi evoluzionisti questa cosa, non io ma illustri scienziati l'avevano detta nel settembre del 2020, no, che sarebbe successo questo, perché se noi non andiamo a vaccinare, a ridurre la diffusione del vaccino in tutto il mondo, il vaccino fa il suo mestiere, come ho cercato di dirvi anch'io, e cioè produce varianti, quindi questa miopia, aggiungerei io e ti chiedo cosa ne pensi, ci fa anche del male, nel senso che è anche controproducente rispetto ai nostri interessi. Aggiungo, è difficile orientarsi, per questo ti chiedo, noi oggi vediamo, molte aziende fanno ormai pubblicità di tipo green, no, e vendono i loro prodotti come se fossero tutti automaticamente sostenibili, e abbiamo anche visto in passato che alcune tecnologie che ci sembravano molto promettenti dal punto di vista green, penso per esempio ai biocombustibili e alla bioraffineria per i combustibili, in realtà poi abbiamo scoperto che consumavano molto territorio, che hanno alterato le dinamiche dei prezzi, ci hanno fatto male. Quindi ti chiedo questo, abbiamo visto che ci sono delle interdipendenze a volte anche negative, come ci si fa a orientare? Tu sei molto esperta, come farà il cittadino, io che non ne so nulla, a capire quando mi stanno proponendo una tecnologia che è seriamente innovativa dal punto di vista ambientale e non è invece greenwashing, o potrebbe invece avere altri effetti negativi? La domanda è complessa. Allora, innanzitutto sul discorso dei vaccini, evidentemente questa è la dimostrazione del fatto che da un lato la scienza sta accelerando sempre di più, perché in un anno si è prodotto un vaccino, cosa che non era mai successa, quindi quando le forze si mettono insieme e c'è un comune obiettivo molto sfidante per l'umanità, le cose si possono fare e quindi c'è anche un messaggio positivo nel discorso del vaccino. Dall'altra parte però abbiamo imparato che poi c'è il manager che guadagna un sacco di soldi e gioca la partita delle sue azioni per sfruttare al massimo, ecco queste cose evidentemente ci dicono che poi c'è un interesse economico talmente forte e che rischia poi, che una tecnologia rischia di essere presa in mano dagli interessi e gioca e va per una direzione che non è quella centrale per l'interesse degli umani e per l'interesse dei cittadini. Quindi è evidente però che in questo caso giocano il ruolo gli stati, quindi è evidente che non si può più accettare che ci siano delle regole che passano sopra la testa degli interessi delle persone, perché poi in fin dei conti a che cosa serve la scienza, a diminuire i triboli dell'umanità. Quindi se non fa questo e fa soltanto gli interessi di qualcuno, forse no, non è quella la scienza giusta. Quindi questo è un tema importante. Dall'altra parte credo che la scienza e la tecnologia abbiano prodotto cose molto interessanti in questo periodo. Quindi per esempio io credo che i prosumers, cioè la possibilità di avere oggi tecnologie che siano a misura di famiglia, a misura di gruppi diciamo sociali, è un fatto molto importante. Quindi le comunità energetiche piuttosto, quindi il poter mettere insieme tecnologie diverse e da qui anche l'importanza della cultura tecnica e scientifica nelle scuole, nelle comunità, perché comunque poter gestire anche piccole tecnologie, ma che ci permettano di essere indipendenti energeticamente, ci permettano di accumulare o ecco, quindi dopodiché dobbiamo sempre porci il tema che se possiamo fare a meno di qualcosa non è necessario spingere al massimo, dobbiamo mettere ognuno di noi il concetto di limite, perché non è che possiamo sempre rivolgere il dito contro gli altri, rivolgiamolo anche contro noi stessi, perché noi siamo stati fautori anche ognuno di noi di questo disastro, perché ognuno di noi se si accorge in casa o in quello che fa, potrebbe utilizzare molte meno risorse di quello che sta utilizzando in questo momento. Quindi evidentemente c'è un tema di, ancora una volta, di formazione, di crescita culturale scientifica, ma anche etica, ma anche sociale, ma anche civile e quindi l'educazione civile, fondamentale. Quindi il concetto è ancora una volta educarsi e progetti in cui non parlare soltanto, non stare troppo sul web, ma incominciare a farle le cose, a rifarle le cose, a metterle mani in pasta e ad essere partecipi di progetti di territorio in cui si costruisce qualcosa, insieme con la logica della rigenerazione dei territori. Gli orti delle scuole, l'uso del rifiuto organico trasformato come compost, il fatto di pensare al suolo. Oggi è la giornata mondiale del suolo, un tema a me particolarmente caro. Ecco, se pensiamo al suolo e ragioniamo intorno a questo, magari poi possiamo parlare due minuti sul suolo, ecco, ognuno di noi può fare tantissimo in questa direzione. Ecco, e quindi anche conoscere di più le risorse naturali, i servizi ecosistemici, quanti di noi, forse adesso incomincia qualcuno a saperne di più di suolo, ma quanti di noi sanno quali sono i servizi ecosistemici del suolo? Non è che ci dà soltanto cibo, che è fondamentale per noi, ma regola le acque, ma regola il ciclo dell'azoto e del fosforo, regola il clima. Nella parte di suolo, 30 centimetri di suolo, ci sono tre volte il carbonio che c'è nell'atmosfera, quindi a seconda di come gestisco questo carbonio, posso emettere CO2 o assorbirla. E quindi la Terra diventa un grande assorbitore di CO2 che può mitigare pesantemente il clima. E non lo stiamo facendo, stiamo perdendo un sacco di tempo. L'Europa nel 2006 doveva fare una direttiva sulla salute del suolo e non l'ha fatta, siamo senza una direttiva sul suolo. Ecco, quindi questi sono temi in cui un cittadino che invece cresce con una scuola seria può porre questi problemi e può anche fare in modo di spingere che ci siano legislazioni a favore di perché gli Stati hanno deciso di non fare nulla sul suolo. Domandiamocelo. Certamente i cittadini non erano informati, perché non sapevano neppure che sotto i loro piedi c'era il più grande organismo vivente, che è il suolo, da cui discendono tantissime importanti cose. Ecco, quindi il tema è molto complesso ancora una volta, ma la soluzione non è, cioè la scienza va avanti per la sua strada e sta correndo. Il tema non è la scienza. La mia preoccupazione è i cittadini informati, i cittadini con capacità critica che siano in grado di non andare dietro alle mode, non andare dietro a chi dice il salame fa male, la carne fa male, tutte cose che magari prese, ma è la linearità delle cose. In realtà la realtà è sempre più complessa. Noi siamo in un mondo complesso e la complessità va capita, va capiti che ci sono tantissimi parametri, non ce n'è uno solo. Quando uno ragiona su un parametro solo sta sbagliando, perché significa che non ha capito pienamente quali sono le interazioni e spesso non possiamo capirlo in un sistema complesso. Quindi dobbiamo anche sapere di non sapere e si impara facendo, si impara su progetti di territorio, con metodi che permettano di misurare quello che stiamo facendo e modificando magari il percorso man mano che si cresce, ma in che modo, avendo dei dati trasparenti in cui partecipare e non solo, ma non fare i tifosi di calcio, è bianco o nero. Quando si va in questo tipo di logica non si costruisce niente, si distrugge soltanto e quindi ogni volta che entriamo in questo meccanismo che magari ci fa comodo, ci piace, sbagliamo. Quindi il tema è far crescere noi stessi e quindi anche questo tipo di dialoghi può servire a creare maggiore capacità critica, che poi è l'antitoto maggiore per la nostra democrazia, per la nostra tenuta sociale. Hai citato un concetto decisivo che è quello di limite, tecnologie devono stare dentro un limite, però ti chiedo anche qua come si fa? Nel senso, se noi invochiamo un limite, per esempio una sobrietà, l'efficientamento, se riduciamo i consumi, subito gli economisti ci dicono, ma così l'economia gira di meno. A me è capitato un dialogo, un dibattito qualche mese fa con degli economisti, ho detto, scusate, l'economia sta ripartendo a razzo, uscendo dalla pandemia, io frequento la A4 tutti i giorni, ci vivo praticamente perché sono pendolare e ho detto, la vedo ormai ingestibile, piena di camion da tutta Europa che vanno avanti e indietro in pianura padana, non si riesce più a viaggiare, come se ne esce? Risposta di un economista, bisogna fare la quarta e la quinta corsia, da Torino a Trieste. Ecco, è questa la risposta, cioè mi chiedo, se noi invochiamo limite vuol dire che vogliamo ridurre anche i consumi, però così l'economia si imballa, invece vogliamo la crescita. Quindi la domanda, visto che me la fanno tante volte, io non so mai come rispondere utilitaristicamente, chiedo a te, cioè dobbiamo rallentare o dobbiamo ripensare la crescita? Com'è che si gestisce davvero questa idea di limite in ambito tecnologico ed economico? Ci sono due, è una domanda molto difficile e non è che c'è una risposta, però secondo me ci sono due livelli. C'è il livello dell'oggi e la visione a medio-lungo termine. Allora, non possiamo permetterci di sbagliare la visione a medio-lungo termine e quindi dobbiamo però fare attenzione a quello che combiniamo nella transizione, perché la transizione è veramente molto complessa e quindi bisogna da un lato uscire, è evidente che nell'oggi, siccome andiamo velocissimi, rischiamo di essere in una spirale in cui non si può cambiare nulla, perché è chiaro che nel momento in cui cambio modello creo un sacco di disoccupazione, creo un sacco di problemi, quindi allora non si può fare nulla. Quindi questo è il ricatto del sistema. Quindi dobbiamo essere in grado di andare su due livelli. Uno, non possiamo chiedere ad aziende che sono pesantemente dentro un settore che siano loro a cambiare completamente tutto, perché non ce la possono fare, perché devono chiudere tutto. Allora, bisogna che anche qui il ruolo delle istituzioni, cioè ci vuole un nuovo illuminismo nella politica, un nuovo tipo di equilibrio tra uomo e natura, tra pubblico e privato, tra consumi e limite. Quindi è veramente complesso il momento, cioè non è che c'è una risposta univoca. Certamente però quello che dobbiamo fare è andare nella direzione opposta a quella che ci spinge a pensare che dobbiamo avere realtà sempre più grandi, sempre più concentrate. Ecco questo, dal mio punto di vista, è veramente ciò che ci farebbe morire. Quello che noi dobbiamo fare è la biodiversità di impresa, fondamentale, la biodiversità dei territori, le specificità, la imprenditorialità, le piccole realtà innovative che si moltiplicano. Noi dobbiamo essere velocissimi in questo tipo di azione e catturare le persone che sono in crisi, in aziende in crisi e mettere là dove c'è sviluppo, dove c'è innovazione, dove magari le imprese non riescono ad avere persone perché non hanno i soldi per farlo, ma hanno tante idee e tante iniziative. Allora anche lì dove concentrare il denaro pubblico per dare supporto è fondamentale. Quindi da questo punto di vista noi abbiamo una sfida epocale di fronte a noi con il Green Deal e con Next Generation Europe. Dobbiamo fare grande attenzione che questi denari vengano spesi per far crescere la nostra popolazione, per far crescere i progetti di territorio, per andare a creare progetti laddove ci sono specificità, saperi, tradizioni innestate con le tecnologie e con l'innovazione, per fare in modo che intere filiere possano vivere e creare opportunità. Poi magari possiamo fare specifici riferimenti. Quindi ancora una volta il territorio e le istituzioni sane, quelle che mettono al centro i cittadini, quelli che non giocano la partita soltanto sull'oggi e sulla rielezione al minuto, ma che vedano lontano. Ecco noi abbiamo bisogno di questo, ma non lo possono fare neppure i politici da soli. Abbiamo bisogno di una società forte, di una società che appunto sia resiliente e oggi non l'abbiamo perché abbiamo delle differenze anche sociali pazzesche che sono state create da quel modello dissipativo e lineare che ha creato e globalizzazione senza radici che ha creato questa situazione. Quindi è evidente che dobbiamo lavorare insieme, i progetti insieme. Quando ci spacchiamo in questo momento noi dobbiamo sapere tutti che stiamo facendo un compito difficile, che non c'è una soluzione, giro la chiave e ho la soluzione. Abbiamo creato troppi pasticci, non solo abbiamo poco tempo perché per 50 anni, pur sapendo da 50 anni sappiamo dove si sarebbe andato a parare, non abbiamo fatto niente, abbiamo parlato moltissimo e il rischio in questo momento in cui abbiamo poco tempo è di sentire le sirene di chi emette bio rinnovabile, sostenibile dappertutto. Ecco, chiudiamo gli occhi, noi dobbiamo costruire qualcosa e per questo i territori sono importanti e la costruzione appunto di questi progetti integrati in cui ci sia interdisciplinarietà, rigenerazione territoriale e con al centro la salute del suolo. Questi sono tre elementi che possono permettere di creare progetti dove si interconnettono aziende che fanno tecnologie diverse, università, agricoltura e così via, per fare in modo che i problemi del territorio vengono risanati e nello stesso tempo si crei nuova economia e nuove imprese e connessione tra diverse imprese, network intelligenti di persone che hanno voglia di cambiare le cose, sapendo che è difficile il compito e che bisogna faticare per questo. Biodiversità di imprese è un'espressione che mi piace molto, biodiversità di imprese vuol dire anche quindi che sostanzialmente è lo strumento per lottare contro le diseguaglianze, hai detto tu, lo hai detto anche all'inizio nella tua visione iniziale, cioè dobbiamo immaginare delle tecnologie partecipative, quindi ti chiedo innanzitutto come si fa, come può un'azienda continuare a fare utile, a fare impresa ed essere espansiva con una tecnologia aperta e partecipativa e poi qualche esempio concreto, per esempio in negativo secondo me, oggi si è tornato a parlare di nucleare pulito, per esempio, tu dici va bene, una nuova fonte di energia in effetti potrebbe aiutarci, però chi controlla, chi controllerà, chi avrà accesso, quindi il tema dell'accesso poi alle tecnologie. Allora, le tecnologie partecipative più che altro sono i progetti partecipativi, quindi l'innovazione, le tecnologie necessariamente sono sviluppate da qualcuno, quindi l'importante è che i progetti vedano più tecnologie, cioè il progetto cosa deve fare? Devo, faccio un esempio, la casa che invece di assorbire energia ne produce, allora lì hai una serie di tecnologie possibili che concorrono a fare questo, quindi a quel punto diventa un progetto che nel momento in cui il progetto ha in sé degli standard molto elevati e ambiziosi, costringe tutti quanti ad andare nella direzione dell'innovazione e non solo, ma la combinazione di diverse tecnologie, il lavorare insieme sviluppa nuove conoscenze, nuove aspirazioni, nuovi target e quindi c'è un sistema di innovazione che io chiamo incrementale indotta, che non puoi fare dall'oggi al domani, ma impari facendo e costruisci qualcosa. Quindi la tecnologia da questo punto di vista è chiaro che qualcuno la costruisce, quindi non è... Poi ci sono tecnologie e tecnologie, perché se c'è una tecnologia che impatta tutto il mondo, come il vaccino, lì entriamo in un altro tipo di campo, quindi... ma nel campo energetico oggi sono tantissime aziende che fanno innovazioni. Il problema è spesso non c'è un chiaro obiettivo, pensiamo alle rinnovabili, per tre anni, quattro anni non abbiamo fatto più nulla, cioè l'Italia è partita, ha fatto grandi cose, poi non ci sono più regole chiare e nessuno poi riesce ad investire o a far partire progetti realmente. Quindi ancora una volta è la lungimiranza del progetto e quindi le sfide che abbiamo di fronte. Io credo che l'Unione Europea abbia fatto delle cose importanti in questo ultimo periodo, per esempio le cinque mission che ha messo in campo, che sono i grandi challenge, le grandi sfide per l'Europa e anche per il pianeta, le ha ben chiarite e sono suoli, salute del suolo e cibo, acqua, clima, città e struttura sociale e salute, in particolare cancro, ma insomma oggi è anche pandemia. Quindi cinque grandi sfide e non solo ma ha incominciato a mettere le strategie e le politiche, quindi quali sono i target. Faccio l'esempio della parte agricola, Farm to Fork, dice che bisogna rigenerare la salute dei suoli e togliere il ridurre del 50%, portare l'agricoltura biologica al 25%, ridurre del 50% gli erbicidi pericolosi, ridurre i fertilizzanti del 25%, c'è una serie di indicazioni che sono riportare materia organica in suolo per evitare la desertificazione dei suoli. Cioè tutto questo ha sfide importanti che tu puoi declinare a livello territoriale incrociando le specificità e le differenze del territorio. Quindi la progettazione a lungo termine dei territori e dei progetti è un tema fondamentale. Quali sono i progetti che mettiamo in campo per uscire da questo? Questa è la vera sfida che abbiamo, quali sono i target? Quindi questo credo sia... Non so se ho risposto alla tua... Sì, sì, però per esempio rispetto al nucleare pulito che è un dibattito che in Europa oggi, la Francia ha già annunciato che investirà molto lì, diciamo, l'impressione però, dimmi se sei d'accordo, è che invece lì proprio l'idea che arriva una cattedrale nel deserto, nel senso ti portano alla centrale, lì non c'è un grande rapporto col territorio, giusto? Come la vedi comunque in generale? Ma allora, il discorso del nucleare, così come altre tecnologie, sono tecnologie molto complesse che sono in mano di pochi, no? Quindi, e non solo, ma con grandi investimenti, quindi, e non solo, comunque non saranno disponibili prima di dieci anni. Quindi comunque noi entro il 2030 dobbiamo assolutamente implementare quello che abbiamo e quindi non deve essere usato questo argomento come uno strumento di distrazione di massa. Quindi, dopodiché, se si riesce a sviluppare delle co... È chiaro che la Francia ha un interesse enorme, perché ha una competenza pazzesca nel nucleare, ha dei problemi, no? E quindi è chiaro che ha un interesse enorme in quello sviluppo. Io lo capisco pure. L'importante è capire quanto denaro europeo va a finire in quella roba lì e quanto i privati, che hanno mucchi di denaro, possano veramente investire in quel tipo di tecnologie. Perché poi anche questo è il tema. Se è così interessante, è così stravolgente far quella cosa lì, perché non ci sono privati che finanziano questa cosa. Noi sappiamo, se vedete i numeri, tu le conosci benissimo, sul nucleare non è che ci sono aziende che stanno guadagnando su questo, anzi, e non solo i nuovi progetti stanno andando molto a rilento e hanno molte problematiche. Quindi questo non significa... Ecco, io tra l'altro sono laica sulle tecnologie come al solito, perché non sono cattive o buone. La mia preoccupazione è in che mani stanno, in che mani stanno e che cosa succederà. Questo è un tema, il discorso della carne sintetica, per esempio, che è un tema... La carne sintetica uno può dire, è accidenti, l'umanità sta crescendo e quindi abbiamo bisogno di carne sintetica. Ecco. Dopodiché questo tipo di sviluppo in quali mani sta? Sono pochi, sono quei grandi di Google, eccetera, che stanno mettendo soldi in grande quantità nel costruire carne sintetica. Dopodiché si dice, ma è importante che ci sia un mercato libero da tutte le parti senza barriere. E dopodiché incominciamo a vedere il Nutri-Score a livello europeo e non l'etichetta di qualità dei prodotti creati sul territorio. Allora, capite che questo tipo di trend porta a immaginare un mondo che non è quello della specificità, della biodiversità e della ricchezza dei territori. È tutta un'altra cosa, che non è una questione di buono o cattivo della carne sintetica. È che cosa c'è dietro? Qual è il ruolo dell'agricoltore di fronte a un sistema di questo tipo? Lo pagheremo ancora di meno, lo faremo scomparire e tutto sarà in mano e noi saremo a mangiare roba che è fatta da quattro aziende nel mondo e dipenderemo tutto da loro. È questo quello che vogliamo. Quindi questi sono i temi, secondo me, che incrociano la scienza ma che vanno oltre la scienza. Benissimo, totalmente d'accordo. Io immagino che il pubblico adesso si aspetti, però parliamo anche di soluzioni invece che ti convincono. Abbiamo parlato di soluzioni ambivalenti. Tu ti occupi di bioeconomia, fate bioraffinerie. Vuoi spiegarci che cos'è, in parole semplici, la bioeconomia e perché invece quella ti sembra una soluzione promettente? Allora, che cos'è la bioeconomia? La bioeconomia è un metasettore dell'economia che mette insieme l'agricoltura, l'agroindustria, il settore della carta, del legno e tutto ciò che viene dalle risorse rinnovabili. La chimica verde, i rifiuti organici, tutto ciò che è organico fondamentalmente. La bioeconomia in Europa è un settore rilevante. Per l'Italia vale il 10% del volume economico del paese, quindi un valore molto importante. Terza in Europa, l'Italia, sulla bioeconomia e anche in termini di posti di lavoro. È seconda nella ricerca e sviluppo. È prima nella serie di prodotti IGP, DOP, eccetera, nel campo dei prodotti speciali di alta gamma nel campo alimentare. È prima nel settore della raccolta del rifiuto organico. Il rifiuto alimentare in Italia si raccoglie per il 47% contro il 16% della media europea. L'agricoltura, anche l'agricoltura italiana, è quella a meno impatto in Europa. Produce 30 milioni di tonnellate di CO2, comunque ne produce di CO2, contro 76 milioni, mi sembra, la Francia, 66 la Germania e comunque tutti gli altri paesi molto di più dell'Italia. Non solo, ma l'Italia dal 2011 al 2018 ha ridotto del 20% anche gli erbicidi, mentre la Francia e la Germania l'hanno ambientati in maniera molto significativa. Quindi diciamo che in questo settore c'è una serie di interessanti opportunità, ma è evidente che la bioeconomia può diventare molto più interessante nel momento in cui si parla di bioeconomia circolare. Quindi perché? Perché nel momento in cui pensiamo alle risorse rinnovabili anche come prodotti nel campo energetico oppure nel campo appunto dei materiali, non solo nel campo alimentare, chiaramente insistiamo sui suoli anche per produrre una serie di tanti altri prodotti. Quindi nel momento in cui non abbiamo un modello circolare rischiamo di creare più danni di quelli che abbiamo fatto finora. Quindi è fondamentale anche qui il modello. Quindi la cosa importante è che da molti anni nel campo della bioeconomia si sta lavorando sul modello. E il modello c'è, c'è una strategia europea, c'è una strategia italiana, c'è un grande lavoro fatto. Novamont è un pianiere, in questo è andata un po' contocorrente per tanti anni. La nostra idea di bioeconomia circolare è appunto rigenerazione territoriale, quindi non biomasse che vengono da una parte o dall'altra, ma rigenerazione territoriale, quindi ripartendo dalle filiere integrate del territorio e appunto il concetto di interconnessione tra settori diversi. l'acqua, la realtà dell'acqua, dell'energia, del suolo, dell'agricoltura si devono parlare tra di loro e interconnettersi. Ci sono delle sinergie incredibili di risparmio che si possono fare, ma anche di conoscenze ulteriori che possono essere generate. E su questa base noi come nel campo della chimica bio-based abbiamo cercato di sviluppare nuovi prodotti, ma con l'idea che non fossero uno dei milioni di prodotti che affogano il mondo, ma l'idea è quella di utilizzare questi prodotti come catalizzatori di cambiamento. E quindi il concetto è quello di appunto andare a prendere quali sono i principi fondamentali su cui ci siamo basati e ci stiamo basando. Uno, il fatto di mettere il limite, quindi non la crescita illimitata di qualcosa e soprattutto non una sostituzione uno a uno di un prodotto fossile con un prodotto rinnovabile, perché quella non è la soluzione. Pensiamo alle bottiglie. Se l'idea della bottiglia dell'acqua crescono a volumi pazzeschi, non è che sostituendole con delle bottiglie rinnovabili ho risolto il problema. Devo cambiare il modello, devo pensare all'ecodesign di questi prodotti. Quindi devo usare i miei prodotti rinnovabili quando risolvono veramente un problema. Quando c'è un problema di accumulo nell'ambiente in acqua e suolo e allora lì i prodotti biodegradabili, rinnovabili, eccetera, possono dare un contributo. Il secondo tema è come li faccio questi prodotti. Possono venire da una filiera totalmente insostenibile o da una filiera sostenibile. Quindi ripensare come faccio i prodotti e quindi se uso degli scarti, se uso dei terreni marginali e mentre produco prodotti rigenero il suolo, ho fatto qualcosa di molto importante. Se invece depaupero il suolo, evidentemente ho fatto un grande danno. Quindi non solo, ma le filiere integrate multivalore. Spesso le filiere agricole e agroindustriali hanno un sacco di scarti che buttano, che comunque hanno diciamo un uso molto di basso livello. Lì invece ci sono grandi possibilità. Noi abbiamo già moltissime soluzioni insieme al mondo agricolo. L'altro elemento, il terzo elemento importante è la biodegradabilità dove c'è problema di accumulo. Quindi nel momento in cui, come dicevo prima, il mondo pieno, in cui ci sono prodotti dell'uomo che stanno strabordando, chiaramente i prodotti non sostenibili che si accumulano nell'ambiente diventano un problema gigantesco di perdita di fertilità dei suoli, tra l'altro, e di molto altro, di inquinamento dei nostri prodotti alimentari, della nostra salute, eccetera, quindi costi sanitari e così via. Quindi questo elemento è un elemento estremamente importante, quello di avere la biodegradabilità laddove ci sono prodotti che hanno un rischio di accumularsi in agricoltura, nei depuratori, piuttosto che negli impianti di compostaggio. Ma questo non basta. Ci vogliono le reti di trattamento del rifiuto, quindi le reti di trattamento delle acque. Non si può pensare che in un mondo pieno non ci siano depuratori, perché altrimenti, anche se ci sono prodotti non pericolosi, anche alimentari, se li scarico in un corso d'acqua, eutrofizzo le acque. Quindi i depuratori sono fondamentali, così come gli impianti di compostaggio e di anaerobiosi, che ti permettono di produrre che cosa? Biometano, ma anche materia organica da rimettere in suolo per rigenerare i suoli, ma anche una bioriaffineria da questi scarti per tirare fuori dei prodotti che possono servire al nostro sistema. Quarto punto e ultimo è quello di avere dei sistemi, degli standard di monitoraggio. perché se io penso di rigenerare il suolo, non è che dico, oh che bravo, rigenero il suolo, e no, devo misurare, devo avere dei metodi di misura. Metodi di misura che non siano semplicemente sul chilo di prodotto, ma metodi sistemici, quindi che mettano insieme tutto il progetto di sviluppo, e andare a vedere i confini di effetti ambientali, sociali, anche economici, perché per dire se veramente sto andando nella direzione giusta o devo cambiare. Ecco, in tutto questo noi abbiamo, con questa logica in testa, abbiamo sviluppato oggi sei tecnologie diverse, abbiamo rigenerato cinque siti industriali deindustrializzati in Italia, abbiamo guardato questi impianti con l'idea non di ferita nel territorio, come era quando siamo partiti con la chimica del passato, ma l'idea era quella di connettersi invece con i territori locali, imparare a conoscere gli scarti, le risorse locali, dove c'erano terreni da rigenerare, e quindi abbiamo sviluppato delle filiere agricole nelle arido colture, abbiamo lavorato con gli scarti agricoli e con gli scarti dei depuratori per fare nuove materie prime, e abbiamo sviluppato una gamma di prodotti nel campo delle bioplastiche, dei bioerbicidi, dei biolubrificanti, dei prodotti per cosmesi e così via, che sono diventati prodotti a disposizione delle filiere integrate italiane. Quindi ci sono filiere del Made in Italy che oggi, per esempio, utilizzano, stanno sperimentando i nostri bioerbicidi per togliere il glifosate, tutta la zona del prosecco del Valdobbiadene, è l'area più grande senza glifosate in Europa, e sta sperimentando questi nuovi prodotti che permettono di ridurre l'impatto in maniera significativa. Quindi il concetto è, a servizio del Made in Italy c'è tutta una serie di innovazioni che permettono di moltiplicare. E poi, la cosa interessante, è lavorando con gli agricoltori, lavorando con le aziende territoriali che fanno dei loro prodotti grande valore, abbiamo imparato un sacco di cose, quindi c'è una fertilizzazione continua, e quindi è un'innovazione incrementale indotta, e con le università, e con... quindi si lavora insieme per creare nuove opportunità e nuovi sviluppi. Faccio l'avvocato del diavolo, però. A me pare questo eco-design, diciamo, dei prodotti è la vela alternativa al greenwashing, no? Nel senso che qui davvero è un cambiamento radicale di tutta la filiera produttiva, corta, circolare, però quanto costa? Nel senso, un esempio piccolissimo, l'anno scorso mi è capitato di curare un libro, un libro fotografico sull'ambiente, e ovviamente volevamo essere coerenti, volevamo che fosse un libro veramente biodegradabile in tutto. Sapete che con i libri fotografici è difficile, perché nella copertina c'è un po' di plastica, le carte pattinate per essere belle, però alla fine è stato un lavoro di ricerca lungo, faticoso, e ce l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto un libro molto bello, che tu, se lo metti in un prato, tra l'altro io ho fatto proprio l'esperimento, e piove, si scioglie, torna nella natura, si scioglie completamente, incluse tutte le fotografie, però è costato ancora parecchio, e alla fine lo si è fatto in perdita, nel senso che il prezzo di copertina sarebbe stato troppo alto. Si riesce a fare tutto questo che hai detto in modo da renderlo poi sostenibile anche per il consumatore, o no? O è difficile? Allora, io devo dirti che il libro l'avrei non fatto biodegradabile, non necessariamente biodegradabile, ma in realtà oggi ci sono tantissime applicazioni che ti permettono nel campo del packaging alimentare, piuttosto che della parte agricola, e così via, si riesce ad essere addirittura competitivi. Faccio l'esempio in agricoltura, tanto per avere un'idea. Pensiamo alle pacciamature agricole, ai teli di copertura. I teli di copertura sono una, anche per le plastiche tradizionali, sostituiscono l'uso di albicidi, quindi in qualche modo hanno un effetto positivo. Però le plastiche tradizionali poi hanno due problemi. Uno, che devono essere ritirate fuori dal suolo, e quindi ogni volta che tiri fuori il prodotto dal suolo, al di là della quantità di... porti via un sacco di suolo, erodi il suolo. E poi è difficilissimo riciclare questi teli, quindi è un problema, crea uno scarto molto complesso da gestire. Ecco, quindi questo è un tema. E poi non solo, ma le plastiche che rimangono, i pezzi di plastica che rimangono in suolo, si accumulano e quindi vanno a impattare sulla fertilità dei suoli. Quindi fanno dei danni, poi a lungo andare, peggiori delle soluzioni del passato. Il telo biodegradabile può essere, è un humus per il suolo fondamentalmente, quindi alla fine del percorso utile viene riassorbito, non viene tirato fuori dal suolo, non tocchi suolo, quindi lo mantieni e poi ha degli effetti anche anti-erosione, anti-flooding, cioè in pratica una serie di effetti positivi, ne usi la metà del prodotto tradizionale, perché puoi utilizzarlo in maniera molto più sottile, e quindi non devi pagare per ritirare su e anche per smaltire. Quindi alla fine la soluzione è economicamente equivalente, in più hai dei vantaggi ambientali che sono veramente notevoli. Quindi il concetto è sempre qual è il confine che tu prendi per valutare l'economicità. Quindi il libro chiaramente è un'altra storia, no? Ma invece tu devi andare a calare questi prodotti, non i prodotti in se stesso, ma se sei in grado attraverso questi prodotti di trovare delle soluzioni sistemiche che ti permettano di risparmiare ambiente, di rigenerare le risorse e di fare anche innovazioni nel campo della chimica e fare in modo innovativo. Chiaro, chiaro, molto chiaro anche l'esempio, assolutamente. Tra poco lasciamo la parola a voi, naturalmente, però ho ancora un paio di curiosità. Una è, ne abbiamo parlato anche in diversi incontri, nei dialoghi di questo ciclo. Quanto è importante l'intervento top down, quindi politico, e quanto è importante il cambiamento dei comportamenti individuali nostri, la consapevolezza, quindi bottom up. Tu hai spesso scritto, lei ha anche detto oggi, le leggi sono importanti e la politica deve prendersi le sue responsabilità, perché c'è anche un po' questo rischio, no? Che se noi puntiamo troppo o solo sulle virtù del cittadino, poi sembra quasi che vogliamo togliere responsabilità alla politica. Quindi che ne pensi di questa dimensione top down, bottom up? Io credo che ci debba essere un punto di incontro, quindi non si può lasciare le istituzioni e il mondo politico da soli. Credo che sia fondamentale appunto il lavoro della società civile, anche proprio per creare questi dimostratori, perché i dimostratori sono importantissimi anche per il mondo politico istituzionale, per dire quello che si può fare e quello che non si può fare, perché poi è un mondo bombardato da interessi giganteschi e quindi non è facilissimo se uno non ha gli anticorpi, anche dal punto di vista delle conoscenze scientifiche, tecniche eccetera, per discernere e discriminare. Quindi io credo che debba essere un lavoro pubblico-privato, diciamo in progress. Non possiamo dire oggi giriamo la chiavetta e c'è qualcuno che ha la verità. Ecco, dobbiamo capire che tutti quanti sappiamo di non sapere e dobbiamo costruire insieme una nuova società. E quindi credo che questa è la rigenerazione che dobbiamo andare a cercare, cioè un nuovo tipo di rapporto che eviti gli scontri e gli slogan, perché io trovo eticamente insopportabile il fatto di utilizzare slogan anche dal punto di vista degli scienziati. Smettetela di fare tutti questi tweet, perché è insopportabile dal mio punto di vista, perché continuiamo a spostare l'attenzione sulle parole. Noi dobbiamo fare dei fatti a lungo termine, abbiamo bisogno di coesione e di comprensione, non di divisione. E quindi questo dal mio punto di vista è un tema importante che ha a che fare con la comunicazione, un altro tema devastante dal mio punto di vista. I danni della comunicazione sono ben oltre quell'immaginabile dal mio punto di vista, perché non c'è anche qui la responsabilità individuale e collettiva di sapere, uno non può pensare che l'audience è più importante in questo momento. Questo è un momento storico di importanza incredibile per l'umanità e quindi la responsabilità individuale credo che sia un tema che va coltivato pesantemente, con fatica, con grande attenzione e non possiamo accettare quello che sta succedendo in questo momento. Questo utilizzo smodato della questione ambientale per parlare e dirne di tutti i colori, invece qui abbiamo bisogno di progetti reali e di lavorare insieme. Sì, assolutamente d'accordo. Non solo sull'ambiente ma anche sulla pandemia dovremmo, quando sarà finita questa storia, fare una bella analisi autocritica sugli errori di comunicazione degli scienziati, sui personalismi, narcisismi, le contraddizioni. Voglio ricordare a tutti una ricerca che è uscita qualche mese fa, impressionante, dove si vede che se noi misuriamo il grado di fiducia degli italiani nella scienza a marzo del 2020 era altissimo, perché ovviamente era il momento del primo lockdown e tutti si affidavano con molta ansia anche alla scienza. La stessa misurazione fatta 12 mesi dopo ha visto un calo deciso della fiducia nella scienza e quando chiede agli italiani perché, la risposta è esattamente quella che hai detto tu adesso, cioè non ne possiamo più di messaggi contraddittori, di slogan, non ci capiamo più niente, per favore dateci dei portavoce della comunità scientifica. Prima di passare la parola all'audience, alla luce di tutto questo mi pare chiaro quale fosse il senso di questi cinque colloqui, giusto? Però ci vuoi dire perché avete deciso di sposare questa iniziativa e di, come dire, proporre anche alla città, al territorio, un'iniziativa che non è di tipo economico come di tipo di divulgazione, di aumento della consapevolezza su questi temi? Ma diciamo che ti sei risposto da solo. Io credo che sia in questo momento fondamentale, come dicevo, come ho detto, il territorio e anche la capacità critica di ognuno di noi di capire che cosa abbiamo di fronte, le grandi sfide che abbiamo di fronte e dal mio punto di vista appunto non si riesce a spingere un'innovazione territoriale senza avere una crescita molto forte dei cittadini su questo tema. E quindi credo che appunto fosse interessante provare questa esperienza, non solo, ma come diceva prima Paola all'inizio dell'incontro, non è che fosse scontato che questa iniziativa avesse successo, però mi sembra che il successo che ha riscontrato dimostri la necessità che c'è di questo tipo di discussioni e di analisi e di incontri, al di là appunto di quello che riusciamo a trovare purtroppo nei media e in quello che è. Quindi è non solo ma anche un modo per venire in contatto, in un momento di non contatto con il Covid di mezzo, però comunque il contatto con le persone della città pensavamo che fosse una cosa molto interessante, non solo, ma credo abbiamo iniziato anche un dialogo con il sindaco sui temi dell'innovazione, della ricerca, dei progetti di territorio. Credo che anche con queste discussioni e con questo dibattito sia interessante incominciare a creare questa crescente connessione tra istituzioni e imprese sul territorio nel campo dell'innovazione scientifica e tecnologica per fare qualcosa di veramente innovativo in una città come Novara, che poi abbiamo una densità incredibile di chimici, biotecnologi eccetera in questa città. È nata qui la chimica italiana con tutte le cose positive e negative che ci sono, ma il lasciato è una cultura forte in questo settore. Quindi sfruttiamo questa cosa per fare qualcosa di veramente innovativo e fare in modo che la città di Novara sia anche campione di tante cose, ma anche del modello di sviluppo, di un nuovo modello di sviluppo. Grazie. Aggiungo che l'importanza, lo dico da comunicatore della scienza di questi eventi, anche che tornando a quello che dicevi prima, hai detto c'è una transizione e c'è una visione. Questo è importantissimo, noi dobbiamo avere chiara la visione di dove vogliamo andare a medio e lungo termine e poi però c'è una transizione difficile, lo sappiamo, che sarà difficile per i costi che dovremo attutire, mitigare, distribuire in modo giusto per l'accesso alle tecnologie e ai progetti, insomma tutto quello che abbiamo detto. Quindi durante questa transizione bisogna fare tanta comunicazione, tanto dialogo, una creazione di una continua discussione aperta, penso sia fondamentale. Allora abbiamo ancora qualche minuto prima di lasciare la sala per gli obblighi che abbiamo anche per il Covid, per un po' di domande. Katia è disponibile a questo e quindi adesso lascio a voi con il solito microfono che gira. Vi ricordo soltanto che una domanda è una frase che dura di solito 20-30 secondi e finisce con un punto interrogativo. Ci provo sui 20-30 secondi perché sono un po' logorroica. Mi volevo ricollegare al concetto di territorialità e di processi bottom-up di cui avete parlato durante questa, come conversazione, questo incontro. Io mi occupo di cooperazione allo sviluppo e recentemente ho analizzato dei casi studio in Indonesia di centri di educazione comunitaria che mirano anche a consapevolezza di altro tipo, oltre all'educazione tradizionale diciamo, quindi anche ad aumentare la consapevolezza verso sostenibilità e processi generativi. In uno dei casi studio, dove uno dei temi fondamentali era l'aspetto rurale, è emerso come la comunità fosse particolarmente importante nel successo di questi progetti e come in aree più rurali la comunità fosse più forte, le persone fossero più connesse, mentre in aree più urbane ci fosse più una propensione verso l'individualismo e il materialismo. In alcuni di questi progetti che hanno attuato sul territorio rurale sono emersi poi dei problemi dall'altro punto di vista, nel senso che nonostante mirassero a turismo sostenibile, a iniziative per sviluppare il territorio in maniera sostenibile e quindi a delle iniziative diciamo village centered, diciamo, il problema era, uno dei problemi che è emerso è che poi, visto che la comunità del villaggio cominciava ad essere più occupata, più impegnata, più attiva, il problema era che cominciavano ad acquisire anche questa mentalità più individualista che invece apparteneva tradizionalmente più all'area urbana. Quindi la mia domanda è... Però l'aveva detto che aveva un problema di sintesi, quindi almeno l'ha ammesso. E serviva la premessa per fare la domanda. La mia domanda è come si può incentivare l'innovazione sociale, diciamo, la collaborazione comunitaria e evitando che però poi si passi a un altro tipo di mentalità che invece non è partecipativa. Esatto, sì. Non so se si è capito. Se prendiamo più domande... Preferisci? Sì, prendiamo più domande. Preferisci con più domande. Ci era già un'altra... Sono tantissime, aiuto. Quindi dovete veramente essere molto sintetici. C'è il signore qua e poi su questo altro lato. Velocissimo. Se conosce la legge di moratoria, di iniziativa popolare per la moratoria del consumo del suolo che fermi in Parlamento. Questa è la cultura dei parlamentari e dei politici italiani. Primo. La divulgazione scientifica è necessaria a livello popolare perché i politici poi nascono dai cittadini. I cittadini... Poi la politica che abbiamo oggi, che sull'ambiente è sorda, è muta, è niente meno che l'espressione di noi stessi, di noi che siamo totalmente ignoranti. Primo. Secondo. La città di Novara, non so se si sono accolti i novaresi, è stretta in una morsa di consumo del suolo in un modo irreversibile e dannosissimo per la salute e per l'ambiente della città. Terzo punto. Siamo sui 20 secondi. Terzo punto. Un mio sogno, se è possibile esprimerlo, è che la città di Novara, che ritengo sia stata sempre ingrata verso, diciamo, la cultura scientifica, soprattutto chimica, perché la villa dove è nato, dove abitavo Fauser è stata distrutta per fare un orribile condominio che ancora è lì da vedere. Ma il mio sogno era questo, di vedere, di fruire in questa città di un festival finalmente della chimica e della scienza. Grazie. Ancora una? C'è la signora qui, la signora qui, e poi faccio... Ah, c'è una ragazza che l'abbiamo dimenticata. Dov'è? Giù in fondo, giù in fondo. Eccola là. Adesso arriviamo. Io prometto che sarò veramente velocissima. Volevo chiedere una cosa. La chimica di solito in un percorso di studi la incontri un po' tardi. Sarebbe bello renderla più accessibile fin dall'infanzia? In modi per farlo? Per fare in modo che i bambini e le bambine anche conoscano prima materie scientifiche come la chimica. Bello, bello. Grazie. Vai, poi facciamo un secondo giro con gli altri. Facciamo un secondo giro, va bene. Allora, diciamo, il primo concetto è quanto è importante la comunità. È importantissimo, ovviamente, il lavoro di comunità. Poi, io credo sia importante iniziare questi progetti che devono essere ben impostati, avere degli obiettivi ampi. e poi, chiaramente, è molto difficile combattere attraverso i progetti il concetto dell'ego. La nostra società è una società che va in questa direzione. Dobbiamo lavorare di più nelle logiche di servizio e, ancora una volta, nell'educazione di base. Quindi è un impegno di tutti noi quello di fare un passo indietro dei nostri egoismi e questo significa cambiare un po' la società e cambiare i modelli. Non è facile. Dobbiamo lavorare a livello di scuole, di formazione e di progetti di territorio, ma i rischi ci sono, ovviamente, che poi quando le cose incominciano a funzionare e poi ci sono delle cose che c'è chi è più uguale degli altri e cerca di emergere. Questa è un po' nella natura dell'uomo, insomma. Quindi non è che possiamo risolvere tutto. Però i progetti di territorio e di comunità sono veramente importanti. Per quanto riguarda la seconda domanda, so benissimo del fatto che, anzi, il mio unico Twitter, perché io odio i Twitter, è stato proprio sul denunciare questo fatto che ci sono dei documenti che sono fermi in Parlamento e in Senato sul discorso del suolo da un tempo infinito e quindi è una vergogna, effettivamente. Però è uscito la scorsa settimana, due settimane fa, sono uscite due comunicazioni dell'Unione Europea sul suolo molto importanti che mettono al centro il suolo, ci sarà una strategia del suolo a fine anno, quindi notizia molto importante, e poi anche una comunicazione sul clima che mette il suolo al centro nel discorso del carbon farming, anche proprio per il cambiamento climatico. Quindi ci sono delle cose importanti, c'è una mission sull'elten food che è stata creata dall'Unione Europea, quindi qualcosa si può fare. Il consumo di suolo è un problema di tutte le città italiane e quindi è sicuramente, ma il tema è che se non si conosce il suolo non si riesce a capire i danni che facciamo, per cui la cultura del suolo è fondamentale, altrimenti non siamo vaccinati nei confronti di questo tema e certamente, quello che dicevo prima, io credo che il sindaco sarà ben contento di questo, cioè dobbiamo fare in modo che questa città recepisca la sua importante cultura, non solo chimica ma scientifica in generale, per fare in modo che diventi un protagonista della vita. Io i festival non li amo moltissimo, ammirei qualcosa di più sul fatto di costruire appunto progetti e poi magari fare il festival su quello che abbiamo veramente costruito, perché se no si parla soltanto. E poi la terza, sull'infanzia, sicuramente ci sono dei programmi, non solo, ma in questo momento c'è il, com'è che si chiama, prima si chiamava MIUR, adesso il MUUR è la parte ricerca, la parte della scuola, non so come si chiama, ecco quella parte lì c'è un progetto molto interessante di formazione dei giovani sulla parte scientifica e anche sperimentale, a partire dalle scuole elementari e quindi credo che si stia facendo qualcosa di interessante, ma anche qui i territori possono fare moltissimo in questa direzione e in realtà come la nostra sicuramente possono anche dare i loro contributi come stiamo facendo, per esempio il Resoil Foundation è una fondazione che abbiamo creato insieme a Politecnico di Torino, a Università di Bologna e a Col di Retti, proprio per creare dei progetti di formazione anche per le scuole con dei bandi per fare in modo che i ragazzi possano presentare i progetti che poi realizzano. Ecco, quindi... Benissimo, facciamo un secondo... Sindaco, intanto le faccio la sintesi, abbiamo deciso, basta consumo di suolo e un festival della divulgazione a Novara. Facciamo davvero molto veloce, secondo Gio ci sono anche altre tre domande su questo lato, prego. Ok, mi si sente. Allora, di solito quando si parla di innovazione, soprattutto negli ultimi mesi, viene molto fuori la parola blockchain e quindi volevo... la mia domanda era relativa al fatto, si può parlare di blockchain e di tutte le sue potenzialità anche in ottica di sostenibilità, perché la blockchain è molto... consuma molto sostanzialmente. E volevo chiedere se si può parlare di blockchain anche nell'ambito della città di Novara, perché di solito le notizie che si hanno sono relative sicuramente molto spesso fuori dall'Italia e quello in Italia si parla molto spesso di Milano, quindi se si potrà in futuro avere progetti relativi alla blockchain riguardo ovviamente alla sostenibilità, all'innovazione, a Novara. Grazie perché anche io ci capisco poco su blockchain, quindi sono curioso di dire la risposta e poi c'era... là ne vedi tre, vedi? Sull'altro lato? No, si sono già prenotati da un sacco di tempo. No, prima in fondo là, signore. Tenete le mani alzate, scusate se no non vi vede. Grazie. Buongiorno, io mi chiamo Lattanzi. Avendo superato gli 80 sono ex quasi di tutto, compreso il fatto che ho fatto ricercatore a Donnegani, conosco bene la dottoressa Bastioli che ammiro moltissimo e di tanto quando mi riesce ad ascoltare mi ridà un minimo di fiducia. Ponevo una questione, in parte già richiamata, transizione e progetto a lungo rischio. In questa città, in questo territorio, credo che ci siano delle cose da impedire che avvengano proprio perché siamo in quel punto lì. Gli unici investimenti di cui si sente parlare a proposito di PNRR è la nuova superstrada Quattro Corsie, Novara, Vercelli. Un territorio come quello di Pernate sta per essere cementificato in nome di cappannoni ulteriori di logistica. A me piacerebbe ad esempio riuscire a fare un conto come è cambiato dal punto di vista dei redditi e dell'intellettualità questa città rispetto alla sostituzione che è avvenuta nell'occupazione attraverso la logistica come elemento trainante. Ecco, io pongo questa, mi rendo conto che non è una domanda, alla dottoressa Bastioli vorrei sapere cosa ne pensa su questo tipo di sviluppo che si è indotto in questo territorio. Grazie. Poi c'erano le ultime due domande sul lato lì. Le vedi? Ecco, perfetto. E poi qui in quarta fila. Buongiorno, io volevo fare una domanda sui prezzi al consumo perché secondo me non devono costare troppo poco le cose, se no A ne compriamo troppe, B ci sono dei costi che sono esternalizzati e ricadono su qualcun altro. Volevo sapere se la normativa in questo momento fa qualcosa in questo senso o se dovrebbe e potrebbe fare qualcosa. Grazie. Giusto, giustissimo. E' un'altra domanda che volevo fare anch'io. Grazie. E poi in quarta fila qui. Prego. Buongiorno, io sono Tacca e la dottoressa Bastioli. Una serie di informazioni che ci ha dato sono preziose. Sono rimasto bombardato. Non so, non saprei neanche da che parte cominciare. Però farei solo due riflessioni. L'economia, l'economia circolare. Economia è tale nel momento in cui c'è un ritorno. Però, per esempio, oggi parecchie foreste in Brasile vengono tolte, vengono annullate per far posto a delle coltivazioni che hanno dei rendimenti, delle rese superiori. Prima cosa. E questo non va bene. Seconda cosa. L'economia circolare è circolare quando il cerchio si chiude. Ma, per esempio, per alcuni prodotti, per esempio quelli dell'elettronica, tanto per fare il cerchio è a metà. Vero ci sono i vari consorzi, consorzi per gli oli usati, consorzi per le gomme, i pneumatici, gli pneumatici, non so neanche come chiamarli. C'è un mare di rifiuti che non si sa dove metterli. Grazie. 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 Allora, iniziamo con la blockchain. Certamente nel campo, specialmente nelle materie prime rinnovabili, è molto importante la tracciatura di tutto il sistema. E quindi, anche del rifiuto stesso. Quindi il concetto della tracciatura è un elemento assolutamente fondamentale dello sviluppo sostenibile. Tracciare dall'inizio alla fine i prodotti. E questo è fattibile. Noi stiamo provandoci a farlo anche nel nostro campo. Stiamo imparando anche noi, imparando facendo. Ma assolutamente è un tema rilevantissimo. Sul fatto di come poi applicare invece la città, magari lo lascio al sindaco, se lui, magari ci possiamo discutere, ragionare, se è possibile immaginare di avere una tracciatura maggiore di quello che si fa nel campo dell'innovazione in questa città. Invece per quanto riguarda il consumo di suolo, il consumo di suolo è un problema gigantesco, no? Ma non solo il consumo di suolo, il degrado di suolo. Io credo che il problema sia la mancanza di uno strumento giuridico per i common goods. I beni pubblici non hanno nessun tipo di gestione giuridica. Non c'è un sistema giuridico che li riconosca. Quindi chiunque può prendersi il bene pubblico, sfruttarlo e poi non rigenerarlo. Nel momento in cui questa cosa viene riconosciuta e mi sembra che stiamo andando in questa direzione, io credo che ci sarà un blocco molto forte del consumo di suolo. Perché non si può andare avanti così? Cioè noi, il tema è che se il made in Italy, facciamo l'esempio dell'Italia, il made in Italy è basato sui prodotti eccellenti dei nostri territori, siccome noi siamo importatori di materie prime e non solo, ma siamo dopo il Giappone il secondo paese al mondo per importazioni di prodotti, perché siamo un paese manifatturiero e poi esportiamo moltissime cose fuori. Quindi, e non solo, ma in un momento come questo, le materie prime, cioè non tanto l'autarchia, ma l'indipendenza dalle materie prime è un fatto fondamentale. Quindi se noi distruggiamo i nostri suoli, la qualità, perché poi la biodiversità dei nostri suoli è importante, perché i nostri prodotti sono speciali, quindi parmigiano, se uno va a fare l'analisi del prodotto, riconosce il territorio da cui viene quel parmigiano. Quindi c'è una connessione diretta tra la biodiversità e i prodotti che mangiamo e il valore del made in Italy. Quindi è evidente che seguiamo il ramo su cui abbiamo costruito e stiamo costruendo il nostro futuro, e anche la bioeconomia circolare si basa su dei suoli sani e su uno sviluppo. Però per fare questo c'è bisogno appunto di una conoscenza importante che fino ad oggi non c'è stata. Quindi io sono convinta che nel momento in cui ognuno di noi incomincia a capire di più su questi temi, perché non sono così difficili poi nel momento in cui ci entri, ecco, incomincia a capire quanto sia importante questo tema. Io quindi sono fiduciosa che con la strategia che uscirà a fine anno sul suolo, con tutto il lavoro che si è fatto, mission board, eccetera, qualcosa di grosso possiamo fare. Io sono assolutamente convinta che noi dobbiamo proteggere i nostri suoli assolutamente, perché è un valore enorme che noi abbiamo. Per quanto riguarda poi il discorso sui prezzi e il consumo, insomma, qui il tema dei prezzi ha due aspetti. Il tema del prezzo, pensiamo, in questo momento ci sono le materie prime che stanno andando alle stelle in tutto il mondo, non si trova più nulla e quindi dobbiamo riflettere su perché e per cosa, ma comunque c'è un problema di crescita enorme dei prezzi che creerà dei grandissimi problemi alle persone, alle famiglie, eccetera, eccetera, tanto che si sta pensando di utilizzare soldi del PNRR, a me mette molta paura questo, per calmierare, ma nel momento in cui si calmiera si distruggono risorse fondamentali per cambiare il sistema e il modello di cui parlavamo prima. E a chi vanno questi soldi vanno a chi sta aumentando enormemente i prezzi, chissà perché, chissà per come e dove e perché. Quindi è un tema molto grosso, mentre sul fatto dei prezzi che sono troppo bassi, in alcuni casi pensiamo al discorso delle arance o cose del genere, soprattutto ciò che viene dato all'agricoltore, questo è un tema enorme, perché se noi paghiamo l'agricoltore semplicemente per estrarre i prodotti della terra e non per rigenerarla, evidentemente è un grosso problema. Quindi il prezzo giusto è un tema assolutamente fondamentale di un sistema che deve evolvere attraverso la qualità dei territori, quindi più basso il prezzo, più massificato il prodotto, più viene da qualsiasi parte, più creiamo disoccupazione e problema nei nostri territori. Ultimo argomento era il discorso del Brasile, è chiaro che quando ci sono degli interessi, però appunto ancora una volta nel momento in cui i rifiuti, eccetera, nel momento in cui si inserisce la logica non solo dell'economia circolare come il riciclo, perché riciclo è una bella parola ma è anche vuota, nel senso che spesso non si possono neppure riciclare i prodotti che sono disegnati solo per l'uso e non per il fine vita. Quindi la grande sfida, uno dei grandi progetti, è quello di ridisegnare i prodotti, che è un po' quello che si fa con la bioeconomia circolare. Ecco, quindi in quel caso non avremo più la massa di prodotti che nascono per essere rifiuti e quindi che poi non sappiamo che cosa farci. Ogni prodotto viene progettato per essere smontato e riorganizzato per dare prodotti. Quindi è questa l'innovazione forte che dobbiamo portare a casa. E chiaramente sul discorso del Brasile ho risposto prima, cioè nel momento in cui c'è un'attenzione forte sui suoli, anche quel tema viene limitato. E se l'Europa non guarda soltanto al proprio impatto, ma anche all'impatto di ciò che importa, perché questo è un tema fondamentale, a quel punto avremo anche voce in capitolo verso quei territori che magari stanno facendo strage di molte cose. Ecco, quindi penso di aver risposto più o meno. Assolutamente. Prego. Il sindaco che voleva fare una domanda o un intervento, prego. L'intervento anche per... Piccola precisazione. No, no, sto qua, intanto mi vedono. Beh, allora, innanzitutto grazie. Grazie da parte della città per aver ideato, pensato e portato avanti questo ciclo di incontri che sicuramente ha un'utilità fondamentale per stimolare la riflessione, per approfondire alcuni argomenti sui quali molto spesso, come è stato detto, la consapevolezza da parte dei cittadini nuovaresi ancora non è così alta, se non solo per qualcuno. Ho sentito prima gli interventi, volevo semplicemente, diciamo così, sottolineo un aspetto. Ho sentito dire che gli unici progetti che la città avrebbe presentato sul PNRR sono l'autostrada di collegamento, Novara-Vercelli, poco altro. Non è così, è un progetto su scala regionale e non è neanche nel PNRR perché il PNRR non finanzia strade, in buona sostanza. Quindi, primo aspetto, quindi quando si dicono le cose bisogna essere un po' più informati. Secondo, la città ha presentato 33 progetti sul PNRR, dei quali alcuni anche sull'economia circolare. L'impianto, ad esempio, per trasformare da fanghi in energia, l'abbiamo già presentato anche a Novara in occasione di un nostro incontro che abbiamo fatto, ma ce ne sono tanti altri, di rigenerazione, di riqualificazione urbana, di forestazione urbana, ovviamente sulle varie emissioni che il PNRR prevede per investimenti da parte delle città. Quindi questo è un aspetto. Ma la cosa più importante di tutte è che evidentemente noi abbiamo iniziato anche un dialogo con alcuni portatori di interesse del territorio, così come Novamond, perché stiamo costruendo, poi lo presenteremo, la bozza, la città, e vorremmo poi, ovviamente una fase più partecipativa, il piano di sostenibilità ambientale della città. Lo abbiamo già fatto con la logistica, il piano di sostenibilità logistica, perché comunque sia... Uno può anche non essere d'accordo, però questo è un territorio di logistica. Uno può anche essere non d'accordo, però questo qui lo è. Ma non deve essere solo quello. Non deve essere solo quello, evidentemente. Però quella cosa c'è, esiste, produce comunque valore aggiunto al territorio, non così alto come il valore aggiunto che produce evidentemente lo sviluppo dell'università, lo sviluppo del capitale umano, sul quale abbiamo fatto progetti anche su quello, sul PNRR. Un'università che sta crescendo di giorno in giorno. È uno dei vari tasselli, sicuramente. Detto questo, voglio soltanto precisare questo aspetto, perché non è l'autostrada Novara-Vercelli che il Comune di Novara ha proposto come progetto del PNRR. Proprio noi non l'abbiamo proprio proposta, è un progetto su scala regionale. Noi abbiamo proposto tutt'altro. Sono 33 progetti che abbiamo anche pubblicato. Uno se li può andare a vedere può dare anche le sue impressioni sulla tipologia di progettuale che abbiamo presentato e può darci anche degli spunti di riflessione consapevoli del fatto che le missioni sono quelle, i bandi sono quelli, le tipologie progettuali sono quelli e noi da questo perimetro non potremo uscire evidentemente come Comune di Novara. Detto questo, grazie veramente per aver pensato a questo appuntamento e andremo avanti con il nostro piano di sostenibilità ambientale che chiuderemo anche grazie all'apporto dell'Università e di Novamont e che presenteremo alla città penso nei prossimi mesi in modo tale che possa essere eventualmente migliorato ed integrato. perché uno può essere di un'opinione o qualcun altro di un'altra ma la cosa più importante di tutte è ascoltarle tutte e cercare di fare una sintesi la migliore possibile. Grazie. Grazie. Grazie Sindaco. Io chiudo dicendo soltanto io non sono di Novara quindi non entro nel merito di questi dibattiti non collaboro con Novamont non parlo per interesse personale e giro tutta Italia facendo, organizzando questi dialoghi scientifici difficile trovare un'imprenditrice una scienziata con questa visione con questa critica radicale sociale e con l'impegno etico di Katia Bastioli quindi grazie Katia Bastioli è disponibile per il firma coppia dei suoi libri adesso in uscita se volete Grazie a tutti grazie Telmo grazie per quello che hai detto ma grazie per tutto il lavoro che hai fatto che mi sembra un risultato molto interessante grazie grazie a tutti grazie 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 a tutti